E' Wilbur Smith, Wilbur Smith, il suo nuovo libro intitolato Il richiamo del corvo, capito? Il richiamo del corvo, ma pensate un po' a voi, chi sapete l'ha portato in Italia questo libro di Wilbur Smith? L'ha portato la casa editrice non italiana, è una casa editrice straniera, il cui nome è Harper Collins, meno male che nessuna casa editrice italiana l'ha portato in Italia questo librone di Wilbur Smith che è intitolato Il richiamo del corvo. Ma lo sapete quante pagine c'ha? Lo sapete voi quante pagine c'ha? Ma lo sapete che c'ha? Che c'ha 550 pagine? No, 528 pagine. Senti Wilbur Smith, Wilbur Smith, il richiamo del corvo, 530 pagine, ma tu non l'hai letto, non l'hai letto tu, questo mio pamflet, questo mio pamflet, non l'hai letto tu, Wilbur Smith, non l'hai letto questo mio pamflet editoriale? scrittori, editori e scrittori, non l'hai letto, lo sai che io ho detto che il romanzo, il romanzo nel tempo attuale che è il tempo dal web, deve essere breve, deve essere breve. Cosa ti viene in mente di scrivere un romanzo di 528 pagine? Ma chi è che vuole leggere un romanzo di 500 pagine? Tu mi rispondi Wilbur Smith, il richiamo del corvo, mi rispondi e mi viene venduto. Sì, sì, ma io lo so, io ho parlato con quelli che comprano i tuoi romanzi, io ho parlato, sono molto pubblicizzati i tuoi romanzi, Wilbur Smith, mi hanno detto tutti che compro i tuoi romanzi, leggono le prime due o tre pagine e poi lo mettono nello scaffale, perché non ce la fanno ad andare avanti, capito? E lo fanno così per bellezza, per darsi un tono, lo mettono lì, in libreria, non lo scaffale. E quando entrano gli amici gli fanno vedere, vedi, dice il libro di Wilbur Smith, ma nessuno li legge i tuoi libri. Ma chi è che legge un libro che è più di 500 pagine? Ma chi è di questi tempi? Che abbiamo lo smartphone, c'è internet, la televisione, il cinema, la radio, ci sono i giornali. Ma chi è che si mette a leggere un libro che ha più di 500 pagine? Ma tu pensi che io sono stato professore di filosofia e storia nei licei, oltre a essere stato poi preside di volo nei licei, e ho insegnato in alcuni anni anche letteratura italiana. Io non ho mai letto, nella sua interessa, non ho mai letto neanche quel mattone che si chiama I Promessi Sposi. Ed è pare che io, io, che ho insegnato filosofia e storia nei licei, io non ho mai letto, nella sua interessa, tranne alcune pagine, non ho mai letto, nella sua interessa, quel mattone che si chiama I Promessi Sposi. Ma ti pare che io mi metto a leggere, io, Serafino Massoni, mi metto a leggere questo tuo nuovo librone, Wilbur Smith, Il richiamo del corvo, pubblicato da HarperCollins. E' ma meno male che è stata una casa editrice straniera a portarlo in Italia, questo librone, di 520 pagine, ma oggi non si scrivono libri di questa mole, neanche una volta si dovevano scrivere, oggi i libri devono essere agili, questo cosa sono, sono 170 paginette questo qua, vedi, Wilbur Smith, guarda, Wilbur Smith, 170 paginette, ma chi è, ma chi è che li legge i tuoi libri? Sì, li comprano, per darci un tono, li mettono lì poi, leggono le prime pagine, si stufano subito e lo mettono lì, lì, in bella vista, e quando entra qualcuno, vedi, io ho comprato l'ultimo libro di Wilbur Smith, capito? Va bene Wilbur Smith, a te, Wilbur Smith, ad HarperCollins, e a tutti voi, e tanti cari saluti da, da, da chi, ma, ma, santo c'è.